Salve a tutti, in questo video vediamo come superare la terapia d'urto. Allora, è divisa in varie fasi, ce n'è una che potrebbe essere un po' particolare, ma ne parliamo dopo. Prima di tutto raggiungiamo una zona di pesca qualsiasi e peschiamo tre pesci. Ecco, fatto. Ci verrà chiesto adesso di sfamare i pellicani. Farò anche un video a parte, perché ci ho messo un po' a capire se servivano esche, dove trovarli, si parla di coste. In generale, comunque, vi faccio vedere dove sono riuscito a trovarli. Praticamente non lontano dalla missione del Dottore. Apro la mappa, vi mostro. Qua, su questa penisoletta, poco più a nord di Baia Burros, ecco qua. Impostiamo qui come destinazione e andiamo a nord, quindi esplorando la spiaggia. E li ho trovati proprio qua, sul sentiero. Semplicemente interagiamo con i pellicani. E fine. Non serve nient'altro. Per tre volte, questo. Prossima fase, dobbiamo raggiungere un punto sulla mappa. Prendiamo un veicolo. E raggiungiamo Radio Verdad. Ecco fatto. Arrampichiamoci su questa altura. Poi da qui vedo che c'è un altro percorso più in basso, quindi l'ho raggiunto. Io vi faccio vedere che strada ho preso. Credo che ce ne sia più di una. L'importante è arrivare dove c'è l'indicatore. Quindi superiamo il ponte. Qua mi devo tuffare. E ho preferito usare la combinazione di tutalare e paracadute. In questo modo. Tutalare e paracadute. Giusto per sicurezza. Entriamo nella grotta, attenti al ghepardo. O al puma, non mi ricordo cosa c'era. Distruggiamo le liane. Qua c'è una cassa. Torniamo poco indietro. E proseguiamo. Quindi arrampichiamoci. Saltiamo sulla sporgenza. E infine arrampichiamoci sulle liane. Ci siamo quasi. Arrampichiamoci. Ed ecco il nido. Ora dobbiamo nascondere l'arma. E rimanere immobili per 30 secondi. Fatto questo, la prossima fase è quella di tuffarci con la tutalare e rimanere in volo per 20 secondi. Probabilmente basta farlo anche da qui. Solo che non lo sapevo perché ancora stava parlando il dottore, quindi ormai ero sceso. Quindi in ogni caso, per non avere problemi, aprite la mappa e scegliete un qualsiasi sgancio aereo. In una qualsiasi località. Subito tutalare. Spingiamo con il tasto indietro per rimanere più dritti possibili. E sicuramente riusciremo a rimanere in volo per il tempo che ci serve. Ultima fase, bisogna fare tre uccisioni di nemici con il macete. In questo modo. Lui dirà cose carine dopo averli uccisi. Quindi non con le armi, ma uccisioni col macete. Ed ecco fatto. Il dottore ci chiederà di tornare da lui e la missione sarà completata. Spero di essere stato utile. Un saluto. Spero di essere stato utile.